Ci sarà un equilibrio fra l'interesse del turista e l'interesse del cittadino. Siamo una città che vede arrivare centinaia di pullman ogni giorno. Bisogna porre un principio di governo di un processo complesso. Innanzitutto noi limiteremo, impederemo l'accesso dei bus turistici nella città di Napoli, nel centro della città di Napoli. Questo significa aria più pulita, significa la possibilità per le auto di muoversi con maggiore tranquillità, significa che le persone potranno passeggiare in un ambiente più sereno e più tranquillo. Quindi nuove aree di sosta per il pullman, un numero maggiore di corse con frequenza, orari prolungati in modo tale che, diciamo così, al tradizionale scarrozzamento in pieno centro di un mezzo di trasporto, viene sostituito con un mezzo di trasporto pubblico. Non ci sfugge che la città, soprattutto nel periodo di Natale, ha delle esigenze importanti, quelle del commercio, della viabilità. Ci sono cantieri, ma soprattutto ci sono dei tratti che vengono spesso preclusi e che diventano difficili. Ecco perché abbiamo dato vita ad un piano, un piano sperimentale, che soprattutto vuole vedere nei bus turistici un nuovo dispositivo di contenimento del loro ingresso in città al di fuori di un'area che viene perimetrata e un supporto da parte delle donne e uomini della polizia locale. La città di Napoli si sta preparando con grande forza, con grande attrattività internazionale e quindi con grande anche sperimentazione circa delle nuove forme di viabilità con il supporto delle donne e uomini della polizia locale. Cercheremo di fare la stessa cosa quest'anno, tenendo conto che rispetto allo scorso anno abbiamo 250 unità in meno, ma gli obiettivi che ci stiamo dando sono chiari, precisi e quindi cercheremo, con le risorse che abbiamo a disposizione, di garantire la nostra presenza in supporto sia di nostri concittadini che di tanti turisti che frequenteranno le strade della nostra città. Limitazione dell'apertura di nuovi cantieri in città, pedonalizzazione del centro antico, attivazione della ZTL nel quartiere Chiaia e nel centro storico, potenziamento delle aree di sosta degli autobus, del taxi collettivo e del trasporto pubblico, oltre alle attività di controllo. Ecco le otto azioni studiate per affrontare la grandissima affluenza di cittadini e turisti in città nel periodo natalizio. La direzione da una parte di lavorare al regolamento che finalmente farà pagare gli autobus turistici che entreranno nel centro storico, c'è una delibera approvata in Consiglio Comunale già quasi un anno fa, adesso bisogna lavorare al regolamento per disciplinare le tasse d'ingresso degli autobus turistici. Questa cosa va anche nella direzione che è un po' anche l'idea politica che stiamo provando ad avere sul turismo, che è quella di favorire quanto più possibile che i turisti camminino a piedi per il nostro centro cittadino, di fare in modo che i mezzi, che sono anche mezzi inquinanti, oggi è una giornata particolarmente dedicata al clima e alla giustizia climatica, ebbene anche delle piccole buone pratiche che fanno sì che dei mezzi così inquinanti siano fuori dal perimetro del centro UNESCO, insomma è sicuramente un'ambizione importante dell'amministrazione.